Il presidente della provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti, ha nominato vicepresidente dell'ente di via anfiteatro Giuseppe Fischetti ed ha conferito la delega ai ventesimi giochi del Mediterraneo al consigliere provinciale Cosimo Fabiano. Entrambi ricoprono anche la carica di sindaco, rispettivamente a Fraganiano e a San Giorgio Ionico. La nomina di Fischetti è nel solco del percorso avviato nel 2018 con l'elezione del sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, alla presidenza della provincia di Taranto, sostenuto dal grande fronte civico del patto dei sindaci, movimento che si è contraddistinto come portatore di cambiamento nella politica tarantina per la pari rappresentanza e dignità di tutte le comunità di terra ionica. Al sindaco di San Giorgio Ionico, Cosimo Fabiano, è stata affidata alla delega la ventesima edizione dei giochi del Mediterraneo che si svolgeranno proprio in terra ionica per collaborare con il presidente nella gestione di tutte le attività riguardanti i giochi. Ringrazio il vice presidente Fischetti ed il consigliere Fabiano per aver accolto le deleghe soprattutto per coadiuvarmi nel governo dell'amministrazione provinciale, commenta il presidente Gugliotti e rivolgo a loro, a nome dell'intero consiglio provinciale, gli auguri per un proficuo lavoro a favore delle nostre comunità. Nei prossimi giorni si terrà una riunione preconsigliare con l'intero consiglio per poter fare insieme il punto della situazione su tutte le tematiche che coinvolgono l'emte con l'obiettivo, conclude Gugliotti, di completare l'assegnazione delle deleghe ai componenti del consiglio.